Buongiorno a tutti, siamo in onda con la quinta puntata di Estrane, rubrica sull'Est Europa, base centrale, tutto lo spazio ex-sovietico con Anna Zafesova e con Alexey Poliansky, che è uno dei più stimati creator del nostro canale, forse il primo a parlare in particolare di Russia e di Est Europa. Ringrazio come sempre della disponibilità Anna che ci viene anche incontro sugli orari, sui temi, siamo sempre prontissimi a darci una mano ad affrontare varie questioni di complessità, spesso molto grandi e soprattutto anche temi di una certa ampiezza e oggi non siamo da meno perché andiamo a coprire un tema. Piuttosto ampio perché partiamo dalle elezioni americane chiedendoci, visto il respiro della rubrica, che conseguenze avrà, che significato ha la vittoria di Trump non solo per l'Ucraina ma per tutto l'Est Europa, per la Russia, per le zone di influenza a cui mira la Russia e tenendo anche conto che appunto gli ultimi 30 giorni non hanno visto soltanto le recentissime elezioni americane ma anche due elezioni fondamentali, diciamo, per il futuro di questa parte di Europa che sono le elezioni slash referendum in Moldova e le elezioni in Georgia. Poi non anticipo nulla, affronteremo un po' i temi il più possibile in ordine, ma parto allora con la prima domanda che è quella che in questo momento si stanno facendo tutti e che anche noi su Liberi Oltre stiamo cercando di porci con più persone possibile, cercando di analizzarla da più lati possibile. Anna, che conseguenze avrà al di là poi delle dichiarazioni di politica estera di Trump, appunto l'elezione di Trump alla Casa Bianca, che chiaramente non è una cosa che parte subito perché l'insediamento chiaramente avverrà nel breve futuro, ma già, per esempio, sono partiti i contatti fra Trump e Zelensky, sono state risposte su Zelensky sul piano di pace proposto da Trump, la Casa Bianca accanto suo ha parlato, quindi ancora i funzionari di Biden stanno facendo dichiarazioni per calmare le acque, quindi ti chiedo, a ruota libera, partiamo dall'elezione americana e poi ci spostiamo anche sulle altre due elezioni, Moldova e Georgia, che sono due casi proprio tra l'altro opposti in termini di esito. Grazie, domanda leggera, leggera, proviamo a sintetizzare. Allora, sì, anch'io credo innanzitutto che ci saranno dei movimenti molto prima del 20 gennaio, non solo perché Trump aveva ancora in campagna elettorale promesso che avrebbe fatto finire la guerra in Ucraina in 24 ore, ancora prima di entrare a Casa Bianca perché era facilissimo, quindi credo che si muoverà, anche perché l'attesa è tanta, la preoccupazione è tanta. Putin gli ha detto telefona, aspetto la tua telefonata, cioè Putin è stato nel suo commento pubblico alle elezioni, diciamo talmente invitante che più di così francamente non saprei, perché ha detto che potrebbe anche telefonare lui, ma comunque lui per ora non telefona, ma potrebbe, ma in ogni caso sta guardando il telefono quando squilla, quindi direi che senz'altro a questo punto Trump si sentirà obbligato a fare un passo. E quindi secondo me ci saranno delle mosse molto prima, la domanda è quali, perché un conto è dire, in campagna elettorale adesso faccio finire questa guerra, un conto è far uscire due indiscrezioni da esperti vari su qualcosa a dire, qualcosa al Wall Street Journal, un conto è presentare un piano, tra l'altro visto che ci sono già dei retroscena, credo di Bloomberg, che basandosi sulle primi colloqui tra Trump e i Trumpiani, con gli europei e con Zelensky, dicono Trump si rende conto che non è così facile. E per fortuna, meno male che finalmente capito che non era facile e che non può sacrificare l'Ucraina più di tanto, anche perché l'Ucraina, fracamente, potrebbe anche dire di no banalmente. E quindi credo che sicuramente ci sarà un tentativo di pace, fin lì è chiaro che sicuramente verterà intorno a un congelamento della guerra e fin lì, come dire, non ci vuole molto la palla di cristallo, cioè ci sarà un tentativo di tregua, di quello che spesso nei giornali italiani si parla di tregua, che è un termine che viene poco usato altrove, ma proprio diciamo di fissare la situazione, congelarla, Putin resta con i territori occupati, non riconosciuti ovviamente a livello internazionale, l'Ucraina resta, diciamo, sei semidivisa. La vera domanda è un'altra, che garanzie di sicurezza si danno all'Ucraina, quindi eventualmente ingresso nella NATO, eventualmente aiuti militari sì o no, oppure è un tentativo di spingere l'Ucraina anche a più miti consigli, a rapporti di buon vicinato come quelli che Putin ha detto che vorrebbe riacquistare, aperta parentesi, non è chiaro come spera in un buon vicinato con un paese che sta bombardando da mattina alla sera da quasi tre anni, chiusa parentesi. Quindi la prima domanda è appunto quali garanzie verranno proposte all'Ucraina, se si rimetterà a fermare la situazione in attesa che cambi qualcosa a Mosca o se si cercherà di spingere l'Ucraina proprio a uscire dall'orbita, a diventare, come dice Romano Prodi, lo stato cuscinetto tra la Russia e l'Occidente e l'Europa. Questo è il primo punto interrogativo, poi ovviamente a scendere ci sono tutti i punti interrogativi su quanto l'Ucraina accetti questa situazione oltretutto. Il secondo punto interrogativo è dall'altra parte, e quindi la Russia quanto la Russia accetterà eventualmente anche lei questo tipo di offerta perché questo tipo di offerta si basa sull'idea che alla fine Putin si accontenterà del Donbass mentre è molto probabile che invece non si accontenti anche perché appunto non è una guerra territoriale, è una guerra e Putin l'ha ribadito di nuovo per ristabilire quegli equilibri, quella spartizione del potere nel mondo che secondo Putin è stata violata ingiustamente a sfavore della Russia. Infatti la frase chiave di tutto il discorso putiniano secondo me non è sto aspettando la telefonata di Trump ma è la Russia non tornerà sulla strada che percorreva prima del 2022. Cioè in altre parole la guerra non si chiude se si chiude una fase di guerra calda in Ucraina questo non significa che l'idea di una Russia in guerra con l'Occidente su tutti i fronti quindi guerra militare, culturale, economica, diplomatica, ibrida e tutto il resto questo è qualcosa che non si chiude. Personalmente credo che sarà estremamente difficile raggiungere un accordo del genere cioè le variabili sono troppe i diretti interessati sono entrambi non sono d'accordo e hanno da ridire quindi francamente anche negoziatori diplomatici più esperti e più abili di Trump farebbero fatica qui mi sembra molto dico francamente molto 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 difficile tra l'altro una cosa che mi ha molto colpito ascoltando Putin perché da notare che entrambi Zelensky e Putin si sono congratulati con Trump Zelensky tra i primi Putin si è fatto un po' più attendere anzi prima attraverso Pescova ha fatto capire che forse non si sarebbe congratulato e poi invece si è congratulato anche tantissimo però entrambi innanzitutto con dei toni molto adulatori verso la persona del presidente eletto sottolineando Putin il suo coraggio Zelensky il suo decisionismo quindi quasi quasi come a dire questa è una persona che va più che convinta affascinata no? e la seconda cosa che mi ha fatto impressione detto da Putin cioè Putin contestualizza queste con congratulazioni a Trump e questa apertura di dire telefonami che ci mettiamo d'accordo in un discorsone di due ore passa programmatico sulla visione della Russia nel mondo l'Occidente la fine di un ordine mondiale il cambiamento dei valori che è un po' insomma il solito il solito discorso putiniano però è molto diciamo molto di portata è di portata globale dove rivendica il mondo multipolare dice che gli Stati Uniti che l'Occidente ha un'avidità geopolitica che gli Stati Uniti sono arroganti che è tutta colpa degli americani che non ci sarà mai più un mondo dove gli americani comandano dopodiché si lancia in una serie di complimenti al nuovo presidente americano cercando anche di conquistare la simpatia in una magnifica dimostrazione di quanto il presidente degli Stati Uniti piaccia o non piaccia è il politico più importante di questo mondo quindi è un po' la smentita di tutto quello che diceva prima per il resto vedremo sicuramente ci sono tanti attori appunto poi approfondiamo questo argomento ovviamente c'è l'Europa c'è la Nato ci sono tanti altri discorsi ma soprattutto la proposta diciamo quello che più o meno frulla in mente a Trump per quel che si sappia e quel che frulla in mente un po' a tutti i sostenitori dell'appeasement è qualcosa che finora non è stato realizzabile infatti non si è realizzato perché né Mosca né Kiev erano d'accordo poi per motivi ovviamente molto diversi perché per chi si tratta di sopravvivenza per Mosca si tratta di ambizione a questo aggiungo soltanto un'altra piccola considerazione e poi ne discutiamo questa rubata a Michael McFall non è mia l'ex ambasciatore americano a Mosca durante il tentativo di rivoluzione in piazza contro Putin nel 2011 2012 e poi grande esperto di Russia e oggi è anche uno delle persone che ha collaborato alla progettazione delle strategie democratiche in particolare anche alle sanzioni contro la Russia che collabora con il governo di Zelensky eccetera quindi persona informata dei fatti che ha detto in un'intervista al Kiev independent una cosa molto semplice e secondo me molto efficace nel momento in cui Putin sente che l'Ucraina sta perdendo il sostegno dell'Occidente attaccherà non si ferma ma non perché Putin perché lo farebbe chiunque cioè nel momento in cui ti dicono che il tuo avversario verrà costretto diciamo sarà subirà delle pressioni per cedere e probabilmente verrà anche ricattato sugli aiuti militari perché io dovrei fermarmi il mio avversario sta diventando molto più debole invece di fermarmi se mai vado avanti cioè mi fermo perché non posso proseguire ma se mi dicono che mi aprono la porta io entro e questo secondo me è proprio una roba diciamo di teoria dei giochi che forse gli appiser hanno un po' sottovalutato vedremo dopodiché se Trump poniamo fa una proposta del genere e Putin avanza lì ovviamente la trattativa si rompe e torniamo a quell'ipotesi che preoccupa molti commentatori russi putiniani che Trump dice dice ma poi alla fine sarà quello che come già nel 2016 dice che invece andrà giù durissimo contro Mosca e che anzi la situazione dal punto di vista del cremino semmai peggiorerà perché Trump con i modi che gli sono propri cercherà di prima cercherà di piegare Zelensky poi però cercherà di piegare Putin una cosa interessante secondo me che si legge per una serie di motivi che sono legati anche al tema delle interferenze russe nelle elezioni del 2016 sull'ombra che rimane sui rapporti fra Trump stesso e la Russia per cui da una parte c'è una parte anche di nostro pubblico insomma che parte dal presupposto che Trump sia in qualche modo un asset russo che ha l'interpretazione più estrema e che chiaramente a quel punto governa qualsiasi conclusione che si portava dal suo comportamento ma anche dall'altro lato le dichiarazioni di Trump sul falcio finire la guerra in un giorno sono sempre viste come Trump che costringe gli ucraini alla pace dando per scontato che praticamente la Russia si faccia gestire i negoziati dall'America e che si faccia comandare su quali condizioni accettare o meno il che non è affatto scontato in questi mesi si è parlato sempre parlando di Trump delle condizioni che gli ucraini dovrebbero accettare si è parlato molto poco delle condizioni che la Russia dovrebbe accettare e non è per niente scontato che esista appunto uno scenario in cui ci sia compatibilità fra le rivendicazioni minime dei russi e le concessioni massime degli ucraini e secondo me quello rimane lo scoglio principale sostanzialmente d'altra parte qualsiasi negoziazione avvenga Trump non deve sembrare debole né nei confronti di Zelensky né nei confronti di Putin non mi sembra ci sia motivo almeno dal punto di vista insomma di questa analisi che Trump possa anche farsi vedere eccessivamente dalla parte di Putin insomma prescindere poi dal processo alle intenzioni a Trump che chiaramente possiamo fare ma che non vedo gli analisti fare onestamente perché credo che sia un po' pointless perché in ogni caso è come dicevi tu è un insieme di reazioni e di reazioni da parte di governi certo e infatti proprio per questo volevo ricollegarmi sia a questa cosa che ho appena detto tu Andrea sia all'ultima cosa che ha detto Anna ovvero che intanto perlomeno nella scorsa presidenza di Trump c'era una grossa differenza tra l'uomo Trump e il governo in toto ti ricorderai Andrea che siamo andati a quegli incontri verso l'istituto polacco di Roma l'anno scorso che io ho citato più volte dove c'erano degli speaker ucraini che descrivevano un po' la situazione e mi ricordo l'International Center for Uranian Victory che è un team tech esattamente e la cosa che mi colpì è che uno degli speaker disse guardate che Trump alla fine parlava parlava però ha mandato le armi agli ucraini a differenza di un Obama che invece aveva tergiversato su questo e questo già è un fatto da considerare però io tendenzialmente quello che posso dire e quello che mi sento di sottolineare è che in generale siamo in una situazione di grande incertezza uno perché appunto nella scorsa presidenza c'era una sostanziale differenza tra l'uomo Trump e il gabinetto Trump mentre questa presidenza potrebbe essere sostanzialmente diversa anche per quello che è noto come Project 2025 che è stato discusso ampiamente nei mesi scorsi che è questo per chi non sapesse progetto promosso da un think tank molto grande molto influente tendenzialmente conservatore anzi fortemente conservatore americano per cui nella sua prossima presidenza Trump sarà circondato da yes men e quindi sarà molto più facile per Trump prendere decisioni rispetto alla sua scorsa presidenza dove sono stati molteplici casi in cui Trump prendeva una decisione così out of the blue quindi dalla sera alla mattina e il suo gabinetto gli si metteva contro e diceva no guarda questa cosa non la possiamo fare questa cosa può essere un problema e via andare questa è la prima cosa da considerare dovremo stare a vedere se questa cosa si verificherà o meno nella composizione del prossimo governo Trump il secondo punto di grande incertezza di tutta questa situazione è la situazione economica russa abbiamo sentito qualche giorno fa le dichiarazioni della Nabiullina che è la direttrice della banca centrale che i tassi sono stati alzati al 21% che è una cosa che non succedeva dal febbraio-marzo 2022 quindi i tassi sono stati riportati al loro livello massimo quindi questo significa che l'economia russa per quanto stia riuscendo a sopravvivere sta riscontrando dei problemi e in questa situazione le elezioni americane potrebbero arrivare o come salvacondotto perché potrebbero dare respiro alla Russia nel caso in cui appunto si vada come diceva Anna prima ad un tavolo delle esattative di cui Trump ha parlato tanto di cui tanti hanno parlato oppure nel caso in cui Trump decida o meglio decida si riveli essere uno che parla tanto però poi alla fine quando si arriva al sodo le cose le fa come vanno fatte quindi non si avvicina troppo a Putin così come non fece nel 2016 in quel caso l'economia russa potrebbe continuare a deteriorare in questo caso la situazione potrebbe evolversi parzialmente a favore degli ucraini ultima cosa che dico e qui vi lancio una domanda sulla quale vorrei sentire appunto cosa ne pensa Anna credo che una cosa che molti si chiedano del nostro pubblico in generale di chi sta osservando la situazione è se gli ucraini dicessero di no ok partiamo dall'assunto che questo potrebbe succedere se gli ucraini dicessero di no quale sarebbe lo scenario che emerge da questa situazione perché l'Unione Europea al momento è abbastanza unita sì ma debole sia in produzione di armi sia stiamo vedendo la crisi economica in Germania la crisi di produzione industriale in Germania è caduto anche il governo nei giorni scorsi quindi la situazione europea sicuramente non è incoraggiante se gli Stati Uniti si sfilano e l'Ucraina comunque dice di no qual è lo scenario si fa guerra partigiana all'ultimo ucraino è molto probabile cioè sicuramente si fa guerra poi attenzione cioè non è che nel momento in cui non ci sono aiuti americani o altro cioè i russi arrivano come un rullo compressore cioè sicuramente e l'abbiamo visto già all'inizio di quest'anno quando c'è stato il blocco degli aiuti nella parte del congresso anzi dei trampiani nel congresso abbiamo visto come infatti parte dell'avanzata russa degli ultimi mesi è frutto anche di quello stop però non è che i russi a quel punto cavalcano fino a Kiev esiste un esercito ucraino esistono le armi già mandate esistono gli accordi americani in base ai quali gli aiuti continuano ad arrivare e continueranno ad arrivare perché Trump non riesce a bloccare tutti gli accordi intanto è stato anche annunciato un pacchetto diciamo al primo di novembre al divertimento della difesa di 425 milioni esatto che i 60 miliardi di prima comunque sono stati soltanto in parte hanno rivelato di recente Zelensky consegnati esatto quindi quello ternisce poi ci sono gli accordi nel quadronato poi ci sono gli accordi con i singoli paesi europei che sono tutti accordi biennali triennali quadriennali quindi fatti appositamente anzi molti stipulati proprio negli ultimi mesi perché alla luce di quello che era successo al congresso si è deciso un po' di mettere in sicurezza l'Ucraina con degli accordi quadro e degli impegni sugli aiuti che sono più a lungo termine e meno soggetti alla volontà di un governo ovviamente tutto si può tagliare tutto si può abolire tutto si può promettere e non dare però diciamo non è che il giorno dopo l'Ucraina resta col cerino in mano quindi sicuramente si continuerà a combattere sicuramente la Russia continuerà ad avanzare ma sarà abbastanza faticoso bisognerà vedere il comportamento dell'Europa e in ogni caso gli ucraini hanno sempre un'altra opzione cioè di fronte a immaginiamoci uno scenario di totale abbandono in cui Trump proprio volta le spalle dell'Ucraina gli europei a parte appunto la crisi a Berlino eccetera Macron che comunque sta in bilico con una maggioranza tutta da inventare eccetera che alla fine gli europei dicono a Zelensky con vari gradi di rammarico vorrei dire carissimo siamo stati con te finché abbiamo potuto ma è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà a quel punto gli ucraini possono guardare in faccia la realtà se la realtà sarà questa e quindi accettare un accordo di congelamento con garanzia appunto tutte da vedere e lì potrebbero anche giocarsela perché tra i sensi di colpa e figuraccia dell'Occidente potrebbero anche strappare qualcosa di più oppure possono andare avanti a oltranza e mettere in crisi anche l'Europa oltre che gli Stati Uniti dicendo guardate noi stiamo morendo sotto i vostri occhi perché ci avete prima illusi e poi abbandonati anche questo possibile tra l'altro ricordo che gli Stati Uniti è vero che Trump ha stravinto è vero che c'è anche il congresso i repubblicani al congresso però è vero che resta anche un sistema politico dove esiste anche un establishment democratico e parte dell'establishment repubblicano non è minimamente filoputiniana ed è anzi piuttosto filoucraina quindi direi che è uno scenario non impossibile ma è uno scenario a quale si arriverà comunque diciamo a ogni passaggio verso questo scenario bisognerà chi lo promuove dovrà anche superare delle resistenze notevoli tra l'altro una delle quali verrà anche questo se ne è già parlato banalmente anche da alcuni aspetti economici perché ovviamente gli aiuti all'Ucraina significa produzione di armi finanziamenti per produttori di armi che mediamente diciamo tendono a essere più repubblicani che a far parte più delle lobby repubblicane che di quelle democratiche quindi secondo me tutto da vedere poi ovviamente siccome il 24 febbraio ci ha insegnato che le cose più terribili e che sembravano impossibili possono accadere nulla può essere escluso incluso che Trump decida di voltare completamente le spalle dall'Ucraina anche perché Trump è imprevedibile questa è l'unica cosa di certo che si sa su di lui e sicuramente quello che lui pensa dell'Ucraina l'antipatia che lui prova anche nei confronti personalmente di Zelensky è qualcosa di molto palpabile e difficilmente superabile quindi qui si tratta anche di vedere appunto quanto il nuovo establishment Trumpiano riuscirà a portarlo a più miti consigli rispetto a quella che chiaramente è una necessità anche politica perché per una presidente che vuole fare l'America great again iniziare mollando un alleato non so quanto sia great francamente quindi non so in realtà Trump si trova adesso che deve veramente risolvere questa situazione siamo in una serie di dilemmi mica facili da questo punto di vista perché la tentazione di dire all'elettore avete visto non diamo più soldi all'Ucraina così l'operaio americano avrà più soldi però l'operaio americano potrebbe anche rimanere disoccupato perché non ci sono più le commesse per le armi da mandare in Ucraina per esempio infatti c'è un articolo di Foreign Policy proprio di ieri che è intitolato prima che torni Trump il congresso dovrebbe comprare armi per l'Ucraina questo permetterebbe ad assicurare un ulteriore flusso in realtà come dicevo una parte del flusso di 60 miliardi non essendo stato ancora consegnato è già assicurato per un po' ma un ulteriore flusso futuro per l'Ucraina allo stesso tempo permettendo all'industria insomma ai lavoratori americani di poter continuare a fare affidamento su quel tipo di procurement perché chiaramente il funding di armi da parte dell'America tiene in vita tutta quanto una serie di industria comunque da nuova linfa e permette insomma in un mercato dinamico come quell'americano insomma molti lavoratori di vivere e l'articolo è di Josh Rudolph che è stato appunto uno come si dice è il chief è il direttore di un gruppo di lavoro del fondo transatlantico democratico tedesco German Marshall si chiama non lo conosco personalmente però è un analista insomma esperto ed è un'analisi molto interessante di come mettere insieme come fa anche Trump il tema di politica estera col tema di politica interna rovesciando un po' la prospettiva la guerra è un'industria ma è un'industria anche nel caso dell'Ucraina non è soltanto un'industria quando c'è l'Iraq o l'Afghanistan eccetera ed è un argomento interessante devo dire che è interessante che in questo caso si utilizzino gli argomenti che spesso usavano i repubblicani c'è un po' un rovesciamento ma se ti ricordi quando Zelensky adesso è stato in America ed è andato a fare visita in una fabbrica di armi dove si fanno armi per l'Ucraina col governatore democratico c'è stata una levata di scudi dei repubblicani che hanno accusato Zelensky di fare campagna per la Harris peccato che lui era già andato in primavera in una fabbrica dove invece il governatore era repubblicano e quindi come minimo era bipartisan però è curioso come tutto si inverte appunto il peso su questa cosa è un po' su Trump nel senso che adesso secondo voi dopo aver promesso di fermare la guerra in un giorno qual è il risultato minimo che Trump deve ottenere per avere credibilità ma faccio anche una domanda più ampia cioè Trump ha bisogno di avere credibilità considerando il personaggio e considerando il discorso dell'imprevedibilità nel senso che poi queste imprevedibilità in politica estera ne parlavamo con i fratelli Gilli qualche giorno fa come dire è bifronte cioè è un problema per l'Ucraina ma è un problema anche con la Russia nel senso che Putin questo lo dicevano molti analisti poteva fare affidamento sulla prevedibilità relativa a moderazione di un governo a trazione democratica con Biden e eventualmente con Harris con Trump la partita è riaperta su tutti i fronti e dal lato dei media per esempio ucraini vedere il bicchiere mezzo pieno consiste spesso anche in questo cioè di dire questo qua è un momento che è molto rischioso ma che contiene anche una grande opportunità mentre l'altro scenario già lo conoscevamo c'è lo stilicidio nelle città ucraine questi aiuti che avrebbero continuato ad arrivare che non arrivare il rischio di un nuovo blocco degli aiuti al congresso eccetera eccetera in qualche modo questa è la strada buia e sconosciuta dove alcuni sono terrorizzati vedo in Italia moltissime realtà pro-Ucraina specie di italiani stanno titolando proprio questa è la fine dell'Europa è la fine del mondo dall'altra vedo gli ucraini che poi anche i media insomma principali ufficiali non possono nessuno ha l'interesse di fare una campagna diretta contro il nuovo presidente degli Stati Uniti né quando era candidato avevano l'interesse a farlo anche perché comunque il mondo mediatico ucraino cerca di stare un po' allineato anche al governo almeno a livello macro e però come dire io l'ho sentito dire fare questo ragione a talmente tante persone che mi sembra che al di là del fare il buon viso a cattivo gioco ci sia in qualche modo una logica dietro fermo restando quello che diceva Anna che la politica internazionale ci insegna che dopo l'invasione dell'Ucraina che qualsiasi previsione è praticamente impossibile eh purtroppo però io su questo vorrei comunque cercare di dare comunque una nota positiva anche un po' per riassumere quello che sta dicendo Andrea nel senso che anche da un punto di vista filosofico perdonatemi un po' la regressione le situazioni di caos come la possibilità di una presidenza Trump che sicuramente come ha detto Andrea sarà un evento che avrà dell'imprevedibilità questa imprevedibilità questo caos può come essere negativo per gli ucraini può anche essere positivo per gli ucraini o negativo per la Russia tanto quanto per l'Ucraina e in questa situazione gli ucraini potrebbero trovare delle finestre di opportunità per condurre magari delle operazioni militari di successo sfruttando appunto l'ambiguità un'eventuale posizione o impostazione di Trump e poi sempre su questo volevo un attimo riflettere anche chiedere appunto ad Anna Andrea nel caso in cui si dovesse arrivare questo anche per soddisfare un po' lo spettatore italiano che sente parlare in giro nei media dai vari commentatori che conosciamo tutti che tendono ad essere abbastanza filorussi che parlano di questo fatto che l'Ucraina deve arrendersi deve smetterla subito eccetera e questo come lo giustificano talvolta lo giustificano dicendo anche guardate che negli interessi dell'Ucraina fermare la guerra lasciare i territori a Putin ovviamente questa cosa se la sentono un ucraino la percepisce come una totale barbarità però effettivamente una situazione di appeasement visto che adesso è inutile nascondersi dietro un dito questa situazione questo rischio c'è diciamo che si arrivi a questo scenario non sappiamo quanto è probabile o improbabile sappiamo che può succedere potrebbe l'Ucraina trarne profitto nel senso di per esempio intanto armarsi perché noi abbiamo visto che nel corso di questi anni sia per questioni di politica interna sia per questioni di estrema difficoltà nel combattere la corruzione che è un problema che esiste in Ucraina come esiste in tanti altri paesi sovietici sia anche per problemi esogeni ossia l'Ucraina sta venendo bombardata quest'ultima non è riuscita a creare un settore della difesa autottono abbiamo visto negli ultimi anni alcune fabbriche ucraine comparire in Repubblica Ceca comunque c'è stato un outsourcing c'è stato ci sono state le aziende della difesa ucraina iniziare ad assemblare droni ad assemblare armi in vari paesi europei e nell'ovest dell'Ucraina anche perché quelli fatti in Ucraina sono utilizzati per attaccare il territorio russo che è uno dei pochi esatto non ne parlavamo qualche puntata fa certo e la domanda appunto è quali potrebbero essere i vantaggi perlomeno tattici dell'Ucraina nel caso di un appeasement sicuramente il potersi rialmare e anche eventualmente dare riposo alle truppe altro problema che negli ultimi mesi è diventato cruciale qui che cosa ne pensiamo io prima di far rispondere Anna faccio un disclaimer per il pubblico che sto anche sulla base insomma di commenti avuti sotto altri video chiaramente qualunque ospite che viene ma noi stessi insomma non siamo qua a fare previsioni perché proprio in particolare questo è un contesto dove gli esperti non le possono fare ma tutti gli esperti i giornalisti sono chiamati a farle cioè è impossibile fare una domanda su questo senza chiedere a un ospite in qualche modo di fare degli scenari e quindi di conseguenza una previsione ma tenete conto che le domande che ci stiamo facendo sono le domande che si fa la stampa mondiale prima citavamo fuori in policy il times eccetera eccetera quindi poi avrete come esempio una reading list nel video e vi ricordiamo anche di mettere a commentare che vi mostrerà tutto questo caridoscopio di scenari spesso mutualmente esclusivi e noi stiamo cercando banalmente di mettere un po' di fatti sul tavolo e ragionarci sopra che è tutto quello che possiamo fare in questa situazione di attesa mondiale prego Anna no ma infatti io non ho risposte ho soltanto ho tante domande e come dire soprattutto cerco di contestualizzare la situazione e per cominciare a contestualizzarle è una cosa che intendiamo per appeasement perché se per appeasement intendiamo quello che è circolato un po' in giro che è uscito anche dall'entourage di Trump eccetera stiamo parlando di fermare le bocce sul tavolo non riconoscere attenzione l'annessione dei territori quindi ovviamente le regioni di Donetsk Luhansk Zaporizia e Kherson oltre che ovviamente la Crimea restano formalmente Ucraina e sono considerate annesso dei territori occupati quindi si crea un altro meraviglioso conflitto congelato che potrebbe durare due anni cinque anni trent'anni settant'anni insomma si tratta di vedere ovviamente qui anticipo subito la risposta alla domanda di Alex dicendo che i vantaggi o gli svantaggi dipenderanno da quanto durerà perché i dieci anni e quale parte di regioni di Donetsk e di Luhansk sono in mano ai russi e ai filorussi diciamo già i danni che sono stati fatti e già l'ipotetica reintegrazione di queste regioni in Ucraina economica e politica e culturale e tutto si presenta come piuttosto problematica per non parlare della Crimea quindi ovviamente più diventa lungo più diventa innanzitutto una sorta di trauma nel quale crescono una generazione dopo l'altra e più diventa difficile poi recuperare questi territori ovviamente quindi innanzitutto questo poi se dobbiamo polemizzare con i commentatori italiani i quali cerco sempre di non polemizzare perché è un po' inutile cosa vuol dire cedere territori che è meglio però cedere territori significa regalarli a Putin non esiste e questa è una cosa che secondo me bisogna sempre mettere molto in chiaro non esiste un meccanismo collaudato dopo il 1945 con la creazione di questo sistema di diritto e di relazioni internazionali che permetta di legalizzare il passaggio di territori da uno stato sovrano a un altro a seguito di una conquista militare non c'è esatto che il governo neanche potrebbe in teoria non si può non sono i trattati di pace del 1918 esatto che sia Trump che sia Putin che sia Babbo Natale non esiste un meccanismo che dica ok tu hai conquistato sta cosa te la diamo deve essere un accordo quindi deve essere o una secessione o un passaggio consensuale come è avvenuto per esempio con la Cecoslovacchia che si è divisa pacificamente lui da Jugoslavia che ha fatto delle guerre alla fine la Jugoslavia si è sgretolata sulle linee amministrative più o meno di quella che era non ci sono state conquiste dei passaggi di territori quindi tratto questo rende anche problematica la storia del Nagorno-Karabakh che è tutta un'altra vicenda ma che se vogliamo seguire questa linea di pensiero formalmente il Nagorno-Karabakh dovrebbe tornare all'Azerbaijan come è tornato quindi da quel punto diviso che è il motivo per il quale la comunità internazionale l'ha guardato fare per quanto diciamo mediamente tifava l'Armenia non ha perché formalmente il Nagorno-Karabakh è una regione dell'Azerbaijan che ciò è avvenuto per motivi quello è un altro discorso però così è se noi decidiamo che i confini sono quelli i confini sono quelli e non si toccano se non consensualmente quindi quello che propongono quelli che dicono per l'Ucraina propongono un matrimonio riparatore è esattamente il matrimonio riparatore sei stata stuprata ma se adesso ti sposo diventi donna onorata non c'è più il matrimonio riparatore né nel ordinamento giuridico delle democrazie né nel diritto internazionale un territorio occupato resta un territorio occupato quindi chi dice che si passa Putin il Donbass sta parlando di una fantapolitica dopodiché siccome appunto la fantapolitica l'abbiamo vista accadere ovviamente c'è sempre la possibilità che l'ordine politico internazionale vada a farsi benedire che il diritto internazionale venga stracciato come è già stato stracciato meno gravemente in altre situazioni che peraltro è quello che dice Putin Putin esordisce quando fa le congratulazioni a Trump prima fa tutto un discorso e qua diciamo l'ordine mondiale non c'è più e l'ordine mondiale basato sulla democrazia liberale si è dimostrato fallimentare quindi Putin è felicissimo se questo ordine va a farsi benedire e felicissimi probabilmente anche la Cina e sicuramente alcuni altri paesi forse lì no insomma ci sono tutta una serie di governi nel mondo che non vedono l'ora di non essere vincolati dal principio dell'inviabilità dei confini quindi trovo vista da qua ovviamente molto improbabile che si faccia un congelamento del tornando in Ucraina del conflitto lungo la linea del fronte con riconoscimento della sovranità russa sui territori a meno che l'Ucraina non lo accetti e non si firmi un accordo ma anche in quel caso francamente la vedo un po' male perché non c'è un precedente che ci si è arrivato mi ha tolto il territorio vabbè te li con c'è cioè sarebbe un po' quindi allo stato attuale se la fantasia di Trump non va completamente al potere stiamo parlando appunto di un congelamento e non di un passaggio quindi stiamo parlando di una situazione di un conflitto che da caldo diventa freddo a questo punto la domanda successiva è l'Ucraina che ridiventa freddo poi diventa freddo ma a quel punto c'è la domanda successiva l'Ucraina rinuncia ai territori che poi non sono territori sono esseri umani parliamo sempre di territori perché è tanto carino fare le cartine sono milioni di persone cosa facciamo questi milioni di persone avranno la possibilità di andare in Ucraina e un discorso a parte come si sistemano propoghi, case, lavori sussidi e risarcimenti non potranno tornare in Ucraina rimarranno ai russi tipo servi della gleba sono tutte domande alle quali ogni volta che parli con questi fautori dell'appismo ogni volta la risposta ovviamente non c'è perché i territori soprattutto con quello che hanno fatto i russi nel Donbass che hanno conquistato finora sono territori che francamente è meglio perdere che trovare a questo punto perché sono macerie totalmente da ricostruire tratto con buona parte della popolazione che è scappata prevalentemente ovviamente verso l'Ucraina qualcuno una minoranza verso la Russia che cosa ottiene l'Ucraina in cambio di questa ipotetica non dico cessione ma dico rinuncia a riconquistare in questo momento dei territori e questa è la vera domanda perché se l'Ucraina ottiene l'adesione alla Nato quindi la garanzia dell'ombrello che la linea del fronte si ferma lì e che le città ucraine non verranno più bombardate tutte le notti potrei anche dire che l'Ucraina guadagna qualcosa che è poi peraltro il piano che a Kiev nel 2019 con l'arrivo di Zelensky molto tacitamente ci si stava ragionando quando eravamo andati a Kiev nell'ottobre del 2019 in varie sedi molto molto off the record ce l'avevano detto che alla fine il Donbass come dire la popolazione pro-Ucraina quella più giovane quella più istruita quella più più produttiva è già scappata e si è anche integrata molto bene nell'Ucraina non occupata gli altri i vecchi i nostalgici i banditi come quelli che hanno preso un po' il potere a Donetsky a Lukánsky eccetera alla fine appunto li lasciamo se non vogliono li lasciamo lì chiudiamo chiudiamo la porta buttiamo via la chiave perché dobbiamo dedicarci allo sviluppo perché vi ricordate ovviamente che Zelensky era stato eletto come il presidente della pace con il presidente della ripartenza lasciandosi la guerra alle spalle di un'Ucraina che torna a crescere che si modernizza che va verso l'Europa ecco un punto in comune con Trump è questo tra l'altro è basato sull'assunzione di poter trattare con Putin di poter si fidare di un potetico accordo cioè Zelensky era partito proprio con le mie intenzioni la mia impressione allora come adesso è stata che Zelensky si rendeva perfettamente conto che non c'era assolutamente nulla da trattare con Putin però prima di appunto abbandonare l'idea cioè abbandonare il Donbass o a un congelamento adatto da definirsi doveva dire ragazzi ci ho provato ci ho provato in tutti i modi anche perché Poroshenko suo malgrado di nuovo era stato il presidente della guerra perché la guerra gli è arrivata in casa e da che doveva essere il presidente del Maidan dell'Europa della pace si ha dovuto infilarsi la mimetica che oltretutto a pochi è stata così male la mimetica in tutti i sensi come a Poroshenko quindi poi arriva Zelensky e dice ok ci superiamo lasciamo la guerra alle spalle e io ci provo quando lui dice io posso sono pronto a mettermi in ginocchio con Putin se questo fa finire la guerra come dire io faccio di tutto poi se non funziona è colpa di Putin io ci ho provato che secondo me il mio sospetto è che quello che Putin adesso sta facendo con Trump cioè questa sua apertura pubblica totale di dire quanto sei bravo quanto sei coraggioso quanto sei particolare ho degli ottimi rapporti con te telefonami io non riesco a togliermi dalla testa il sospetto che faccia un'apertura così esplicita proprio per dire ragazzi io la pace la volevo l'avete visto tutti perché io davanti alle telecamere ho detto Donald telefonami se poi non mi avete proposto quello che volevo non ci posso far niente io non discrudo che sia così perché per Putin adesso e questo è un altro discorso ancora per Putin adesso la guerra in realtà gli conviene cioè non vuole che la guerra finisca tra l'altro qui torno a citare Alexander Baunov che avevamo già citato nella trasmissione precedente che ha fatto questo commento dicendo appunto che in realtà a quel punto il piano diciamo il piano di Putin il piano della vittoria di Putin era quello di far vincere Trump una volta che Trump gli propone un piano di pace Putin non sa più che fare cioè non è quello il progetto di Putin il progetto di Putin infatti lui lo dice non torneremo a un mondo pre-2022 quindi non escludo che questa esagerata apertura sia un modo di pararsi contro eventuali accuse e quindi per tornare all'Ucraina se l'Ucraina vince in cambio l'adesione all'Europa l'adesione alla Nato e garanzia più o meno ferre di sicurezza dalla Russia incluso ovviamente la difesa antiaerea perché non ci fidiamo più degli accordi cioè che l'Ucraina diventa come dire adesso il paragone ovviamente è in proprio fino a un certo punto ma passatemelo l'Israele dell'Europa cioè il paese che va difeso perché comunque fa parte ancora prima di entrare l'Europa fa parte dell'Europa cioè nel momento qui ci sono garanzia del genere l'Ucraina ci può non dico guadagnare perché resta un tramo amostruoso restano centinaia di migliaia di persone morte ferite rimaste senza casa con famiglie divise restano città distrutte cioè resta una ferita che ci metterà non so quante generazioni a cicatrizzarsi però nel frattempo non dico che guadagna ma ha una prospettiva però questo è tutto forse perché non sappiamo che cosa diciamo da alcuni dei piani che sono usciti dall'antourage trampiano pareva che volessero proporre all'Ucraina sulle linee putiniane la neutralità la neutralità significa diventare una colonia di Putin in un modo in un altro e chiaramente questa è una condizione che non può essere accettata dall'Ucraina ovviamente dall'Europa nemmeno perché significa banalmente che Putin avanza fino ai confini della Polonia più o meno magari non subito ma col tempo e a questo punto il discorso si fa ancora più pesante a questo aggiungo un'altra brevissima considerazione sul fatto che abbiamo fatto il quadro Trump Zelensky Putin ma ci sono anche c'è anche il fatto c'è anche Xi Jinping per esempio perché se nell'ipotesi di Trump che fa l'appeasement di Putin in cambio vorrà come minimo che Putin si allontani dalla Cina cioè io lo vorrei al posto suo perché se il mio obiettivo principale il mio competitor strategico è la Cina a questo punto cioè io che faccio e anche l'Iran tra l'altro e anche l'Iran però io che faccio rendo Putin più forte e quindi regalo Xi Jinping un alleato ancora più forte no è chiaro che a questo punto Putin deve allontanarsi dalla Cina e la domanda è quanto vuole quanto può idem l'Iran quindi in queste non è una triangolazione è molto più complicata di così questa figura geometrica perché se gli Stati Uniti e su questo il se lo toglierei anche cominceranno ad andare giù duro con Pechino e con Teheran Putin si trova anche senza quegli alleati che finora gli hanno fornito anche assistenza militare e a questo punto anche la Corea del Nord potrebbe andarci di mezzo perché la Corea del Nord senza la Cina non so quanto possa essere in autonomia un alleato vedremo anche questo grazie a tutti grazie a tutti